Sabato e domenica andrà in scena la 42esima giornata motonautica Città di Cremona. Sulle acque del Po verranno disputate l'ultima prova dei campionati italiani delle classi Formula 4 e OSI 400, oltre alla prova decisiva del campionato mondiale Formula 500. Siamo particolarmente orgogliosi quest'anno perché oltre alla 42esima edizione della giornata motonautica Città di Cremona siamo riusciti a portare a Cremona con l'aiuto della federazione dopo oltre 20 anni una prova di campionato del mondo. Quindi è sicuramente un evento sportivo eccezionale per Cremona. Il Mondiale F500, due gare di campionato italiano anche se le ultime della stagione, la Formula 4 che è una formula nuova giovanile di avvicinamento alla motonautica e l'OSI 400 che tra l'altro vede due piloti iscritti alla motonautica associazione Cremona a correre anche loro domenica. La manifestazione è stata presentata ieri presso la sede della MAC con la presenza del suo nuovo presidente Giuseppe Gilli, dei vice presidenti Stefano Corbari e Marcello Ventura con Ennio Manfredini. A rappresentare il comune c'era l'assessore Andrea Virgilio con Achille Cotrufo del CONI, Cesare Beltrami del Panatron e Giuseppe Bresciani del CIP. Inoltre hanno partecipato alla presentazione Giacomo Borgonovi, presidente della Commissione Sportiva dell'Unione Internazionale di Motonautica e Vincenzo Iacognanni, presidente della Federazione Italiana Motonautica. Cremona è una tappa obbligatoria per la stagione di circuito della Federazione Italiana Motonautica con differenti prove, alcuni anni campionati del mondo, altri anni prove di campionato italiano. Quest'anno c'è una prova prestigiosa che è quella della Formula 500, tra l'altro l'ultimo evento, quello che segna il campionato del mondo che abbiamo strappato a un'altra nazione che voleva organizzarlo, l'Italia l'ha chiesto, l'abbiamo ottenuto, l'abbiamo dato a Cremona perché riteniamo, ma non da quest'anno, da sempre che la MAC sia una società estremamente capace dal punto di vista organizzativo con un campo di gara ottimo che in questo weekend sarà ancora meglio, viste le condizioni.